Noi ci siamo incontrati a Sirmione, se non sbaglio, più di un anno fa. Allora erano in tanti a dire che la crisi non esisteva, erano in tanti a parlare di luce in fondo al tunnel e di ripresa imminente. E allora, poco più di un anno fa, eravamo in pochi invece a paragonare questa crisi, sotto più di un aspetto, al grande crollo del 1929. Eravamo in pochi allora a spiegare che questi anni, sotto molti aspetti, assomigliano agli anni 30. Eravamo in pochi ma avevamo ragione noi. Purtroppo avevamo ragione noi, come si sta vedendo in questi giorni. Da questa crisi non si esce per due motivi essenzialmente. La causa strutturale di fondo della crisi verte su quello che Marx considerava un carattere ineludibile del capitalismo. Vale a dire l'allargamento, ai limiti dell'insostenibile, dello scarto tra la capacità produttiva dei lavoratori e una capacità di consumo degli stessi lavoratori. La capacità produttiva dei lavoratori si sviluppa, cresce continuamente. La capacità di consumo degli stessi lavoratori, sia riguardo ai beni privati, sia riguardo ai beni collettivi, tende invece a declinare. Marx a questo proposito scriveva che la causa ultima di tutte le crisi è il divario crescente tra lo sviluppo delle forze produttive e i consumi ristretti delle masse lavoratrici. Il punto è che poi, e questo è il secondo motivo di prolungamento e di aggravamento della crisi, oggi non c'è niente che compensi questo divario tra forze produttive e consumi ristretti delle masse. Non c'è niente perché non c'è più il boom finanziario americano che trainava l'economia mondiale, non c'è la Cina che non ha né l'intenzione né la possibilità di agire come locomotiva mondiale, e non c'è l'Unione Europea che invece in teoria avrebbe la possibilità di delineare un autonomo sentiero di sviluppo del benessere sociale, ma a quanto pare non ne ha l'intenzione. Dalla crisi per questi motivi non si esce, ed è anche per questi motivi che il piano industriale di Sergio Marchionne non è credibile. Ora, come è stato nella relazione introduttiva giustamente ricordato, la Fiat ha sempre pubblicato piani industriali alquanto allegri, alquanto ottimistici sul piano dei volumi di vendita, dei ricavi. Questa volta però siamo al limite dell'impossibile, questa volta siamo al grottesco, perché nella previsione dei volumi di vendita, il piano industriale di Fiat, questa volta più che mai, è del tutto inverosimile. È inverosimile perché il profilo di ripresa della produzione tra il 2011 e il 2014 entra in collisione con tutte le previsioni macroeconomiche di cui disponiamo adesso. È inverosimile perché stima dei rapporti di cambio tra le valute inaccettabili, improbabili. È inverosimile perché suppone che paesi come il Brasile possano non risentire pesantemente del prolungamento della crisi globale. È inverosimile questa volta, quindi, più che in passato. Dunque è chiaro che la partita di Marchionne non si gioca sui volumi di produzione e di occupazione. C'è quindi da ritenere che la messa in mobilità dei lavoratori crescerà rapidamente con il passare dei mesi. La partita di Marchionne, quindi, si giocherà essenzialmente sul margine di profitto che si potrà estrarre da ogni singola ora di lavoro. Poche ore di lavoro, ma alti profitti su ciascuna delle ore. Ora, può la Fiat ottenere questo obiettivo? È, a quanto pare, stando così le cose sì, nel senso che la Fiat mette nell'angolo i sindacati. La forza è data proprio dalla crisi, la forza della Fiat è data anche da una precisa minaccia. Che cosa ci sta dicendo Marchionne di giorno in giorno? Marchionne continuamente dichiara io costruisco auto e se non le produco a Pomigliano le produrrò da un'altra parte. Ci sono un sacco di posti che amerebbero avere la produzione di auto. la Serbia, per esempio, o la Polonia. Ora, questo è un punto decisivo perché è una delle tante testimonianze della guerra globale tra lavoratori che è in atto ormai da molti anni. Una guerra che è iniziata con la restaurazione capitalistica degli anni Ottanta è che si è intensificata con i processi di liberalizzazione e di apertura globale dei mercati, dei mercati dei capitali, delle merci e del lavoro. È esattamente questa guerra tra lavoratori che porta all'allargamento del divario tra capacità produttiva e capacità di consumo dei lavoratori stessi. È esattamente la guerra tra lavoratori che porta alla crisi del sistema. Guardate che la guerra tra lavoratori ha a che vedere, per esempio, anche con la crisi della zona euro. Ci dicono che la crisi dell'Unione Monetaria Europea, che gli attacchi speculativi che sono in corso oggi e che ci porteranno probabilmente alla deflagrazione della zona euro, ci dicono che tutto questo dipende dal fatto che i greci hanno truccato i conti e che si sono messi a spendere troppo. Questo ci dicono. Ci dicono che l'Europa sta collassando perché i lavoratori hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità. Questo ci dicono. Tuttavia la verità è un'altra. La verità è che questa crisi non ha a che vedere tanto con la Grecia, ha a che vedere di più con gli interessi capitalistici del paese dominante e cioè della Germania. Il punto fondamentale da comprendere è che la crisi della zona euro è iniziata con la crisi del sindacato tedesco. Il punto fondamentale da comprendere è che la crisi della zona euro verte sotto molti aspetti sul fatto che in Germania i salari non crescono più ad un ritmo paragonabile alla crescita della produttività. La Germania riesce a tenere sotto controllo i salari. La Germania dispone di una crescita della produttività superiore a quella degli altri paesi europei. La Germania riesce quindi a vendere molto e compra invece poco. La Germania quindi accumula crediti verso l'estero mentre invece la Grecia la Spagna il Portogallo la Francia la stessa Italia accumulano debiti verso l'estero. Dunque è in virtù della guerra tra lavoratori e delle ripercussioni che la guerra tra lavoratori ha avuto sul sindacato del paese dominante la Germania che noi stiamo assistendo alla crisi della zona euro. C'è una sola cosa da fare a breve termine ed è un atto eminentemente politico. Affinché il sindacato possa sottrarsi da questa morsa occorre esigere il blocco dei movimenti di capitale. Occorre cioè ridurre i diritti di proprietà di fiat sul capitale di fiat. Occorre stabilire che il capitale gli impianti le attrezzature non si spostano liberamente per autonoma decisione della proprietà del capitale.